Ciao, sono il dottor Luca Ducci. Questa sera siamo qui nel punto 20 della doccia di Ranciano per illustrare il funzionamento di un nuovo dispositivo pensato per il benessere dell'ostra pelle, l'Ufipaccio. Come potete vedere, questo dispositivo è un piccolo cerotto e l'utilizzo è davvero semplicissimo. Basta applicarlo su di una qualsiasi parte del corpo purché esposto al sud. Una volta applicato, il cerotto cambierà colore a seconda della colorazione della vostra pelle e del livello di esposizione ai raggi solari. A questo punto non dovrete far altro che scaricare l'applicazione dedicata e scansionare il cerotto per verificare il grado di esposizione. Grazie a Silvia per la collaborazione, a voi per l'attenzione e arrivederci al prossimo tutorial. Grazie a tutti.